Sono le 7.51, potrebbe essere già l'elicottero di Papa Francesco, datemi anche Gianluca Paladin, è molto presto. Questo l'elicottero bianco di Papa Francesco che si sta preparando all'atterraggio qui davanti al Generali Convention Center. Ecco la posizione scelta per l'atterraggio del Santo Padre, siamo vicinissimi all'elicottero, siamo a un passo dell'elicottero di Papa Francesco. Ecco che si alza anche la polvere che viene verso di noi per l'atterraggio, attenzione anche te Gianluca che giustamente siamo stati sommersi dalle polveri. Ecco che l'elicottero è atterrato, atterraggio perfetto. Come vedete l'arrivo del Santo Padre, eccolo, eccolo Papa Francesco a Trieste, un momento storico per partecipare alla settimana sociale dei cattolici, quindi sta raggiungendo la carrozzina ed eccolo accolto da Monsignor Trevisi. Vedo anche il Cardinale Matteo Zuppi tra coloro che ha accolto Papa Francesco, eccolo lì anche il Presidente come rilevavi tu, il Prefetto di Trieste Pietro Signorello e il Presidente Pietro Ostuni, siamo vicinissimi a Papa Francesco. Ed eccolo avvicinarsi al centro congressi per tenere il suo discorso, la sua lezione, il suo messaggio alla città e al mondo sulla democrazia.